e appunto Idenheim dovremmo essere pronti partiti è in vantaggio l'azialità davanti a Murano Cross Pinks Mister McMahon Capiniera Don Giustino Lisia No Suspect e Desenheim Dopo 300 metri di corsa passa Murano davanti all'azialità Cross Pinks Mister McMahon Lissian Capiniera No Suspect e Desenheim All'inizio della curva prosegue in vantaggio Murano davanti all'azialità Cross Pinks Mister McMahon Lissian Capiniera Non Suspect Don Giustino E Desenheim poco prima dell'ingresso in vantaggio Murano davanti all'azialità Cross Pinks e Mister McMahon I cavalli entrano in dirittura Con Murano in leggero vantaggio lungo la corda attaccata all'esterno da Mister McMahon Lissian Lassialità Lissian e Capiniera Seguono Cross Pinks Don Giustino Non Suspect a centro pista Passa Capiniera davanti a Don Giustino E Non Suspect è lungo la corda In leggero vantaggio Non Suspect è lungo la corda Davanti a Don Giustino Lissian e Capiniera Lissian e Capiniera Grazie.